Ciao a tutti e benvenuti in Tessila News, quando si dice una vera e propria coccola da indossare. Quest'oggi infatti parliamo di un filato che vi farà innamorare sicuramente a prima vista, o per meglio dire al primo tocco, data la sua morbidezza e quel calore avvolgente. Quest'oggi analizziamo l'Hendrix. Vediamolo! Eccolo qui il nostro Hendrix. Come potete notare si tratta di un gomitolo estremamente morbido, infatti è composto per il 9% da lana, il 9% viscosa, il 65% acrilico e il 17% poliammide. Si presenta quindi in un gomitolo di ben 50 grammi per una lunghezza di circa 125 metri. E' consigliabile in questo caso, come potete notare quindi dalla sottigliezza del filo, un uncinetto 5-7 oppure ferri 6,5-7,5. Per quanto riguarda quindi i consigli per il lavaggio e il post lavaggio, in questo caso è consigliabile lavarlo a mano ad una temperatura che non superi i 30 gradi, quindi sempre consigliabile con sapone delicato in modo tale da preservare il capo appena realizzato. E' possibile quindi poi stirarlo ad una temperatura che non superi i 110 gradi, non è possibile utilizzare il tetracloretilene, ad eccezione invece di tutti gli altri solventi, non è possibile candeggiarlo e tantomeno apporlo in asciugatrice. Eccolo quindi nella variante verde e lo vediamo poi nella variante bordeaux e senape. Passiamo adesso a queste tre splendide colorazioni pastello, quali glicine, acqua e salmone. Analizziamo adesso il color cedro, rosso e salvia. Meravigliose anche queste splendide tonalità accese del turchese, giallo e lilla. Non possono mancare poi questi tre colori di tendenza, quali rosa, tiffany e carta zucchero. Passiamo adesso a queste tre splendide colorazioni, molto delicate, quali cipria, bianco e perla. Ovviamente non possono mancare i classici blu, beige e grigio. E passiamo infine alle ultime tre tonalità, esaltate sempre da questo bellissimo effetto pelosetto, quali avio, viola e nero. Come avete visto la scelta nelle colorazioni non manca, così come quindi non mancherà l'ispirazione per questo splendido filato che si presta sicuramente per la realizzazione di quei capi destinati a quel periodo dell'anno un po' più freddo. La bellezza però di questo filato è che nonostante sia appunto caldo e avvolgente, allo stesso tempo non risulta essere pesante, ma anzi molto leggero nell'indosso e quindi sarà ideale anche per realizzare ad esempio quei capi come un maioncino a collo alto che non andrà quindi a pizzicare sulla pelle ma diventerà davvero molto piacevole, così come ad esempio dei comodi poncho o anche pullover, perché no anche scaldacollo così come maxi sciarponi che sono molto di tendenza e che vanno quindi anche ad arricchire il vostro outfit rendendolo super glamour. Come sempre io vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube, di attivare la campanella per rimanere aggiornati su tutte le novità Tessiland e ci vediamo al prossimo articolo. Ciao! Ciao!